Arrestati dalla Guardia di Finanza di Catania due esponenti della famiglia mafiosa dei Brunetto. Si tratta del 53enne Attilio Amante e del 53enne Rosario Argiri Carrubba. Per entrambi l'accusa è di associazione di stampa mafiosa e di estorsione. L'ordine di carcerazione emesso dalla locale Corte di Appello rappresenta l'epilogo di una lunga vicenda giudiziare nata a seguito dell'operazione Litte Brown del 2008, durante la quale la Polizia Tributaria di Catania aveva sequestrato 52 milioni di euro e individuato un grosso giro di riciclaggio del clan di Paolo Brunetto, boss mafioso legato al clan di Benedetto Santa Paola. In quell'occasione finirono sotto sequestro anche l'azienda Trasporti Ambra Transito, gestita da Amante, e la Cosma Costruzione di Mascali, amministrata da Argiri Carrubba. Secondo l'accusa, infatti, entrambe le società venivano utilizzate dal boss Brunetto per riciclare i proventi derivanti dall'usura, dalle estorsioni e dal traffico di droga. Respinto il ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione, Amante, indicato quale guardaspalle del boss Paolo Brunetto, dovrà scontare una pena pari a 8 anni e 11 mesi, mentre per Rosario Agiri Carrubba la condanne pari a 6 anni e 10 mesi.